Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Aileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto tratto dal nuovo romanzo di Jennifer L. Armentrout, Fall of Ruin and Wrath. Si tratta del primo volume di una nuova serie fantasy romance che uscirà in lingua inglese il 12 settembre del 2023. In italiano non si sa ancora se e quando verrà pubblicata. Sinossi. Lei vive di intuito, lui si nutre del piacere di lei. Molto tempo fa il mondo fu distrutto dagli dèi. Soltanto nove città furono risparmiate, separate da vaste terre selvagge brulicanti di mostri e pericoli inimmaginabili. Ogni città è ora governata da un guardiano, una famiglia reale che si nutre di piacere mortale. Nata con l'intuito di non fallire mai, Calista sa che i suoi talenti sono di grande valore per gli assetati di potere del mondo. Così vive nascosta come cortigiana del barone di Archwood. In cambio della sua protezione, lei gli fornisce informazioni. Quando la sua intuizione la porta a salvare un viaggiatore, un principe in gravi difficoltà, la voce dentro di lei le lancia grida d'avvertimento e di promessa. Oggi lui le porterà gioia, un giorno lui sarà la sua rovina. Quando il barone si interessa al principe viaggiatore e il principe si interessa a Calista, lei diventa la temporanea compagna del principe. Ma la città ribolle di ribellione e con i cavalieri e mostri alle porte della città e un principe affamato nel suo letto, l'intuito potrebbe non essere sufficiente per tenerla al sicuro. Calista deve scegliere seguire l'intuito verso la salvezza o seguire il suo cuore verso la rovina. Capitolo 2 Vorresti un vino diverso, cocca? Le mie dita si contrassero, poi le premetti contro la pelle esposta fra due dei tanti fili di gioielli che mi adornavano il fianco. Normalmente il nomignolo nome infastidiva, ma Haimel, il cugino di Claude, era portata d'orecchio, cosa normale visto che era il capitano delle guardie. Anche se mi dava le spalle, sapevo che Haimel stava sorridendo. Era un idiota, punto e basta. Sottili e delicate catene di diamanti pendevano da una corona di crisantemi freschi e picchiettavano contro le mie guance mentre giravo la testa dalla massa di quelle sotto all'uomo accanto a me. Il barone di Archwood, dai capelli scuri, sedeva su quello che poteva essere definito solo come un trono. Piuttosto sgargiante, secondo me. Abbastanza grande da ospitare due persone e tempestata di rubini estratti dalle miniere. La sedia costava più soldi di quanto probabilmente avrebbero mai visto coloro che straggono quei rubini. Non che il barone se ne rendesse conto. Claude Huntington non era per forza un uomo cattivo e avrei saputo se lo fosse stato, anche senza il mio intuito. Avevo incontrato troppe persone cattive in tutte le classi sociali per non riconoscerne una. Poteva essere inclini all'incoscienza e indulgere un po' troppo nei piaceri della vita. Era noto per essere un flaggello di Dio se lo facevano arrabbiare. Era ovviamente viziato e, essendo un celestia, era prevedibilmente egocentrico. Raramente una sola ruga di preoccupazione aveva solcato la pelle dall'abastro del barone. Ma ciò era cambiato negli ultimi mesi. Le sue casse non erano più così piene. Le sedi orribili e le decorazioni dorate su cui Claude insisteva, le feste e festeggiamenti notturni di cui sembrava aver bisogno per sopravvivere, probabilmente avevano qualcosa a che fare con quella situazione. Anche se non era del tutto giusto. Sì, Claude voleva ospitare queste feste, ma erano una cosa che si aspettavano da lui, da come per tutti i baroni. In questi incontri si trovavano molti tipi di piacere, che fosse il bere, il cibo, la conversazione o ciò che di solito accadeva più tardi nella notte. No, dissi sorridendo, ma è gentile da parte vostra offrirmene. Le luci sfavillanti del lampadario scintillavano sulla pelle lungo gli zigomi e il ponte del naso. C'era una spolverata di luccicchio dorato lì. Non era una specie di trucco facciale, era semplicemente la sua pelle. I celesti alluccicavano. Gli occhi di un'incantevole sfumatura blu oceano cercarono i miei. Tutto di Claude era adorabile. Le sue mani perfettamente curate e morbide e i capelli neri come l'inchiostro perfettamente acconciati. Era magro e alto. Perfetto qualunque moda da cui gli aristo erano attualmente ossessionati e quando sorrideva poteva essere affascinante. E per un po' mi era piaciuto lasciarmi affascinare da quel sorriso. Oltretutto Claude, essendo un celestia, era sempre stato estremamente difficile da comprendere per me. Le mie capacità non entravano subito in azione con lui. Potevo entrare, anche solo per un po'. «Ma non hai bevuto molto del tuo vino», osservò lui. Risate e conversazioni ci circondavano mentre guardavo il calice. Il vino aveva il colore della lavanda che cresceva nei giardini di Archwood e sapeva di bacche dolcificate. Era gustoso e bere vino era visto con favore e persino previsto. Dopotutto bere alcolici era un piacere, ma attenuava anche le mie capacità. E cosa più importante, sapevo la verità sul motivo per cui ero l'amante preferita del barone. Non era la mia straordinaria e strana bellezza o la mia personalità. Il barone teneva me e Gredi al sicuro, nutriti e ben curati, a causa delle mie capacità e di quanto avrebbero potuto essergli utili. E mi terrorizzava il pensiero che nel momento in cui non avrei più avuto uno scopo, sarebbe stato il momento in cui io e Gredi saremmo tornati per strada, a sbarcare a malapena il lunario e vivendo sempre a un passo dalla morte. E non era una vita. Va bene, lo rassicurai, bevendo un piccolissimo sorso di vino mentre riportavo la mia attenzione a quelli sotto il palco. La grande camera d'orna d'oro era piena di aristo, ricchi importatori e commercianti, banchieri e proprietari terrieri. Nessuno di loro era mascherato. Non era quel tipo di festa. Non ancora. Cercai naomi tra quelli di sotto, avendola persa di vista prima. «Cocca», mi chiamò Claude dolcemente. Lo guardai di nuovo. Si piegò in vita tendendo la mano. Dietro di noi le sue guardie personali tenevano d'occhio la folla. Tutti tranne Gredi. Colsi una rapida occhiata alla pelle scura della sua mascella che si contraeva. Gredi non era esattamente un fan del barone di questa sistemazione. Il mio sguardo tornò sul barone. Si piegò in vita tendendo la mano. Dietro di noi le sue guardie personali tenevano d'occhio la folla. Tutti tranne Gredi. Colsi una rapida occhiata alla pelle scura della sua mascella che si contraeva. Gredi non era esattamente un fan del barone di questa situazione. Il mio sguardo tornò sul barone. Claude sorrise. Appoggiando una mano sul cuscino di velluto su cui ero seduta, mi avvicinai e appoggiai il mento sulla sua mano. Le sue dita erano fresche come sempre. Come le sue labbra mentre abbassava la testa e mi baciava. Sentii solo una piccola fitta allo stomaco. Sentivo di più un tempo, quando pensavo che la sua attenzione nascesse dal suo desiderio per me. Ecco perché a Gredi non piaceva questo accordo. Se Claude mi avesse ricoperto di attenzioni perché mi voleva per, beh, per me stessa, a Gredi non sarebbe importato affatto. pensava solo che meritassi di più, di meglio. E non è che non lo pensassi anch'io, ma di questi tempi era difficile trovare di meglio e di più per chiunque. Avere un tetto sopra la testa, cibo nello stomaco e sicurezza aveva sempre prevalso sul di più. La sua bocca si sollevò dalla mia. Mi preoccupi. Perché? Fece scorrere il pollice appena sotto il mio labbro inferiore, attento a non sporcarmi con il rossetto rosso. Sei silenziosa. Come potevo non esserlo quando sedevo sul palco con nessun altro che lui e Heimel con cui parlare? Claude aveva chiacchierato con tutti sotto il sole questa sera e avrei preferito tagliarmi la lingua invece di parlare con Heimel. Seriamente. Mi sarei prima tagliata la lingua e gliel'avrei lanciata. Penso di essere solo stanca. Perché stanca? Mi chiese e nel suo tono c'era proprio la giusta dose di preoccupazione. Non ho dormito bene. La notte precedente mi aveva svegliato un incubo del passato, uno che era stato un'ossessionante passeggiata lungo il viale della memoria. Avevo sognato che eravamo di nuovo per strada e Gredi aveva avuto quella tosse spasmodica, quella che riuscivo ancora a sentire dopo tutti questi anni. Avevo avuto spesso quell'incubo, ma ieri notte era stato troppo reale. Ecco perché passavo la maggior parte della giornata a curare il giardino di fiori che avevo creato per me. Avevo appena avuto il tempo di prendere qualcosa da mangiare tra quello e i preparativi per la mia presenza nella sala grande. Ma in quel piccolo giardino non pensavo al passato molto reale, agli incubi o alla paura che tutto questo poteva finire da un momento all'altro. Un sopracciglio scuro si alzò in risposta. È davvero tutto? Annui. Claude fece scivolare la mano sui mie capelli, fissando uno dei fili di diamanti. Cominciavo a temere che fossi gelosa. Lo fissai, confusa. So di aver prestato molta attenzione alle altre ultimamente, disse, sistemando un altro filo mentre guardava la folla. Probabilmente la bionda Ellison. Ero preoccupato che stessi iniziando a sentirti non apprezzata. Inarcai le sopracciglia. Davvero? Lui aggrottò la fronte. Sì. Continuai a fissarlo, lenta nel rendermi conto che era sincero. Stavo per scoppiare a ridere, ma mi trattenmi. Non riuscivo nemmeno a ricordare l'ultima volta che Claude aveva fatto più che darmi un bacio veloce o una pacca sul di dietro. E la cosa mi stava benissimo. Quasi. Anche se in questi giorni provavo poca vera attrazione per lui, mi piaceva essere toccata, desiderata, ricercata. Mi piaceva toccare, anche se solo per pochi minuti. E anche se Claude non poneva limiti alle sue amanti, le cose erano un po' più complicate per me. Ero più come una consigliera, o una spia a cui a volte mostrava attenzione. Mi è stato detto che non hai dormito negli alloggi di nessun altro, aggiunse. Sentì un lampo di irritazione. Non apprezzavo l'idea che qualcuno mi tenesse d'occhio, ma era anche un'osservazione piuttosto irrilevante. Claude sapeva esattamente quanto fosse difficile per me entrare in intimità con gli altri. Quanto mi metteva a disagio se non erano consapevoli, beh, dei rischi di toccarli senza offuscare i miei sensi con quello che sembrava il mio peso corporeo di liquore. E non essere in grado di ricordare di aver fatto sesso o sperare che fosse stato piacevole era inquietante quanto vedere o sentire cose che non avrei dovuto. Forse ancora di più. Tuttavia, Claude dimenticava regolarmente ciò che non lo coinvolgeva direttamente. Non voglio che tu ti senta sola, disse, ed era sincero. Per questo gli sorrisi. Non lo sono? Claude ricambiò in fretta il mio sorriso e si girò, rivolgendo altrove la sua attenzione. Gli avevo dato ciò che voleva, la rassicurazione che ero felice. La cercava perché gli importava, ma anche perché aveva paura che me ne sarei andata se non lo fossi stata. Ma quello che gli avevo detto era una bugia, perché ero... Mi fermai, come se questo potesse in qualche modo cambiare il modo in cui mi sentivo. Afferrai il calice, bevendo metà del vino in un sorso mentre fissavo le fessore dorate incise nei pavimenti di marmo. La mia mente si calmò, solo per pochi minuti, ma fu tutto ciò che ci volle perché il mormorio delle voci aumentasse. Chiudendo gli occhi feci un respiro profondo e lo trattenni, finché non recisi tutti quei fili invisibili che cominciavano a formarsi nella mia mente. Dopo diversi istanti espirai dolcemente e aprì gli occhi. Il mio sguardo si spostò sulla folla, i volti sfocati e la mia mente tutta per me. Di fronte a me Heimel si appoggiò al palco. Mi lanciò un'occhiata. La bocca incorniciata da una barba ordinata era contorta in un ghigno. C'è qualcosa di cui hai bisogno, cocca? La mia espressione non mostrava nulla mentre ricambiavo lo sguardo di Heimel. Quell'uomo non mi piaceva e l'unico motivo per cui Claude lo tollerava era perché faceva parte della famiglia e perché si occupava dei compiti più sgradevoli della gestione di una città. Ad esempio, a Heimel piaceva essere mandato a riscuotere gli affitti, soprattutto quando non erano in grado di pagare. Era inutilmente duro con le guardie e mi stuzzicava ogni volta che ne aveva la possibilità. Voleva che reagissi come facevo quando gli altri mi facevano arrabbiare. Avevo quella che Heimel chiamava una boccaccia. Tuttavia avevo imparato a tenere la bocca sotto controllo. Beh, circa il 90% delle volte. Ma quando ero davvero arrabbiata o davvero nervoso spaventata, era l'unica difesa che avevo. Tranne che, a pensarci bene, non era davvero una difesa. Era più una tendenza autodistruttiva, perché mi metteva sempre, sempre nei guai. A ogni modo, Naomi una volta mi aveva detto che era perché lui aveva problemi a letto. Era incapace ad avere un orgasmo. Non sapevo se fosse vero o no, e trovavo ironico che un essere simile potesse avere tali difficoltà. Ma i celesti erano vicinissimi ai mortali come poteva esserlo un Heiborn. Non si ammalavano così spesso, ed erano fisicamente più forti. Non avevano bisogno di nutrirsi come i Deminians, ma non erano immuni alle malattie. A ogni modo, dubitavo che fosse il vero motivo della mischinità di Heimel, o l'unica, ma sapevo per certo una cosa su di lui. Heimel aveva una crudeltà tutta particolare, ed era da quella che traeva piacere. Sochignò. Sei come il cagnolino preferito, lo sai, vero? La sua voce era abbastanza bassa che solo io potevo sentirlo, dal momento che Claude aveva rivolto la sua attenzione a uno dei suoi compari. Il modo in cui ti fa sedere ai suoi piedi. Lo sapevo, ma preferivo essere il cagnolino preferito invece di uno affamato e morente. Però Heimel non lo avrebbe capito. Coloro che non avevano mai dovuto preoccuparsi se le loro pance si sarebbero mai riempite, o se i topi che correvano tra i loro capelli di notte portassero malattie, non avevano idea di cosa si è costretti a fare per nutrirsi e avere un tetto. Pertanto, le sue opinioni e quelle di altri come lui non significavano nulla per me. Quindi sorresi, portandomi il calice alle labbra e bevi un altro sorso, molto più piccolo. Heimel socchiuse gli occhi, ma poi si voltò. Si rigidì. Seguì il suo sguardo. Un uomo alto vestito con eleganza uscì dalla folla. Lo riconobbi. Alice Ramsey si avvicinò al palco, dirigendosi verso il barone. Il magnate delle spedizioni della vicina città di New Marsh si fermò per inchinarsi profondamente davanti al barone. Buonasera, barone Huntington. Claude annui riconoscendolo e tese il braccio verso una delle sedie vuote dall'altra parte. Volete del vino? Grazie, ma non è necessario. Non voglio rubare troppo del vostro tempo stasera. Ramsey fece un sorriso nervoso, che non fece nulla per alleviare la durezza dei suoi lineamenti mentre prendeva posto. Ho delle novità. Riguardo a che cosa? Mormorò Claude guardandomi. Fu un'occhiata veloce, ma la notai. Le terre dell'Ovest, disse. C'è stato uno sviluppo. E quale sarebbe? Chiese Claude. Ramsey si sporse verso il barone. Giravoce che la corte delle terre dell'Ovest sia in disaccordo con il re. Le mie care vecchie orecchie si tesero mentre abbassavo il calice e aprivo i miei sensi. In una stanza con così tante persone dovevo stare attenta a non esserne sopraffatta. Mi concentrai solo su Ramsey, creando questa corda immaginaria nella mia mente, una corda che mi collegava direttamente a lui. Avrebbe potuto essere difficile dare un senso ai pensieri. A volte sentivo più che altro un gruppo di parole che corrispondevano a ciò che uno diceva, o erano qualcosa di completamente diverso. A ogni modo mi ci voleva sempre un momento per orientarmi, per decifrare ciò che stavo ascoltando ad alta voce e ciò che non veniva detto. Sono poco interessato, e pettegolezzi, rispose Claude. Penso che a questo sarete interessato. La voce di Ramsey si abbassò mentre udivo la frase. Dubito che tu abbia interesse per qualcosa che non allarghi le gambe e non sia bagnato. Sbuffai. Due cancellieri sono stati invitati a Visalia per conto del re. Riferì Ramsey parlando dei messaggeri di umili origini che agivano da intermediari tra il re e le cinque corti. Sembra che ci sia stato un problema con la loro visita. Visto che sono stati rispediti indietro a sua altezza, il magnate fece una pausa drammatica. A pezzi. Riuscì a malapena soffocare un ansito. L'avrei considerato più che un semplice problema essere rispediti a pezzi. Beh, questo è preoccupante. Claude beve un lungo sorso di vino. C'è di più. La stretta di Claude si fece più forte sul suo bicchiere. Non vedo l'ora di sentire di che si tratta. La principessa di Visalia ha ammassato una presenza consistente lungo il confine tra Westlands e Midlands, rivelò Ramsey. I suoi pensieri riflettevano ciò che aveva detto. Altre voci, ma anche quelle ritenute vere. E questa presenza consistente. Claude guardò la folla sotto di lui. Stiamo parlando del suo battaglione? Il suo battaglione e i cavalieri di ferro, da quello che ho sentito. Ramsey si spostò, portandosi una grossa mano sul ginocchio. Restai sorpresa mentre posavo il calice sul vassoio. Nell'ultimo anno i cavalieri di ferro, un gruppo di ribelli di bassa nascita che erano più simili a predoni che a veri cavalieri, avevano causato problemi in tutte le città di confine nelle Midlands e Lowlands. Da quello che sapevo, volevano vedere il re Highborne sostituito con uno di basso rango. E anche se non prestavo molta attenzione alla politica, a meno che dovessi farlo, sapevo che stavano guadagnando sostegno in tutta Caelum. Era piuttosto difficile non saperlo, quando conoscevo persone che credevano che Vine e Balen, il comandante dei cavalieri di ferro, potesse trasformare il regno in qualcosa di meglio. Ma non capivo come sarebbe stato possibile se stavano unendo le forze con l'Highborne delle terre occidentali. Claude si passò il pollice sul mento. E sono entrati nelle Midlands? Non che io sappia. E Balen? chiese Claude. È stato individuato? Questa è un'altra cosa a cui non so rispondere, disse Ramsey, pensando che se quel bastardo fosse stato individuato sarebbe morto. Qualcosa in cui il pensiero era inquietante, perché era quasi come se la morte di Balen sarebbe stata sconvolgente. Ma i cavalieri di ferro stavano guadagnando terreno tra i poveri. Ma di solito i ricchi non si auguravano il successo dei cavalieri di ferro. Ciò metteva a repentaglio lo status quo. Ma Archwood è abbastanza lontano dal confine. Ci sarà almeno un avvertimento se i cavalieri di ferro raggiungeranno le nostre terre. Ma se oltrepassassero le città di confine? Questa non sarebbe più una ribellione. No, murmurò Claude. Sarebbe un atto di guerra. Mi sentì stringere il petto mentre interrompevo il legame che avevo forgiato con il magnate. Lanciai un'occhiata a Gredi, poi alla folla. Non c'erano state guerre, non dalla grande guerra che aveva avuto luogo quattro secoli prima e che non aveva lasciato quasi nulla del regno. Non credo che si arriverà a questo, disse Ramsey. Nemmeno io. Claude annui lentamente. Grazie per l'informazione. Si appoggiò allo schienale della sedia. Vorrei mantenere segreta la faccenda fino a quando non ne sapremo di più con certezza, per evitare il panico. Concordo. Il barone rimase in silenzio mentre Ramsey si alzava e scendeva dal palco. Il magnate delle spedizioni non si vedeva più tra la folla quando Claude rivolse la sua attenzione a me. Che cosa hai saputo? E qui c'era il punto cruciale del nostro accordo. Come lo aiutavo? A volte era conoscere il futuro di un altro o ad ascoltare i pensieri di un altro barone. Si avevano in mente qualche complotto o se erano venuti ad Archwood in buona fede. C'erano momenti in cui era richiesto un approccio più pratico per sapere. Ma non questa volta. Non appena mi pose la domanda sentì un brivido freddo al centro delle scapole. Lo stomaco sembrava vuoto quando misi la mano sotto i miei capelli scuri e mi toccai dietro l'oricchio sinistro, dove mi sembrava che qualcuno avesse posato un bacio freddo. La voce nella mia testa mi lanciò un avvertimento. Lui sta arrivando. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social. Non vi mangio mica! E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!